Giulia, Manuel, Gianluca, Mirella, David, Carlo sono sei ragazzi normali, semplicissimi, che fino a poco tempo fa hanno vissuto nascosti in mezzo a noi. Eppure sono sei anime predilette, scelte da Dio con una missione speciale, essere profeti di speranza e ricordarci che la santità è una chiamata d'amore personale per ciascuno di noi. Noi a Dio chiediamo sempre qualcosa, ma non pensiamo mai a dirgli solamente grazie. Grazie Signore per tutto quello che fai per noi. La sofferenza per me è stata un dono di Dio e con Lui nel cuore ogni cosa diventa un dono speciale. Fidatevi totalmente di Gesù e Lui vi darà tutto. Signore, se puoi, smezzami la croce, non toglierla, ma spaccala a metà e portiamola insieme. L'Eucaristia è veramente il cuore di Gesù. È la mia autostrada per il cielo. Oh Signore, ti prego, fa di me lo strumento della Tua vita. Gesù mio, il dolore per me è la Tua carezza. Più si soffre, di più si ama. Pregate molto, non affinché io guarisca, ma che sia fatta la sua volontà. Se sarà la sua volontà, io avrò vinto. E nulla potrà essere meglio di così. Grazie a tutti.